Noi chiederemo un incontro, già siamo in stretta collaborazione con le prefetture al riguardo, proprio oggi avremo un incontro anche col prefetto di Palermo proprio per discutere su queste tematiche e trovare il modo per mettere insieme sinergie comuni perché al di là dei ruoli e degli ambiti specifici di competenza è necessario in questo caso fare un fronte comune per evitare che ci sia una parcellizzazione delle responsabilità e quindi a beneficio chiaramente complessivo della popolazione immigrata che ormai deve essere tutelata proprio secondo un'ottica di piena integrazione col territorio. I tempi di permanenza al cara che non dipendono né da Croce Rossa né dall'ente gestore non aiutano per cui quando un migrante rimane ospite anche oltre un anno questa cosa naturalmente non favorisce il benessere generale di tutti gli ospiti del cara.